Capitolo 2. Dodici anni. La prima volta che mi si spezzò il cuore fu in questa casa. Avevo dodici anni. Era una di quelle rarissime sere in cui i ragazzi avevano programmi diversi. Steven e Jeremiah erano andati a pescare di notte con certi ragazzi che avevano conosciuto alla sala giochi. Conrad aveva detto che non ne aveva voglia e io ovviamente non ero stata invitata, perciò eravamo rimasti insieme noi due. Beh, non eravamo esattamente insieme, però eravamo nella stessa casa. Stavo leggendo un romanzo d'amore con i piedi appoggiati alla parete della mia stanza quando Conrad passò da lì. Fermandosi mi disse. Belli, che fai stasera? Richiusi in fretta il libro. Niente. Cercai di mantenere la voce calma, non troppo emozionata o entusiasta. In effetti, avevo lasciato la porta aperta di proposito, sperando che lui si fermasse. Hai voglia di venire a fare una passeggiata con me sul lungomare? Mi chiese. Quello era il momento che aspettavo. Finalmente ero abbastanza grande. E gli lanciai una rapida occhiata con aria di sufficienza. Forse. Ho proprio voglia di una mela caramellata. Te l'offro io. Tu sbrigati a vestirti e andiamo. Le nostre mamme stanno andando al cinema. Ci daranno un passaggio. Mi misi a sedere e dissi solo, d'accordo. Non appena Conrad se ne fu andato, chiusi la porta e corsi allo specchio. Mi estate avevo i capelli lunghi, quasi fino alla vita. Poi mi tolsi il costume e mi misi un paio di pantaloncini bianchi e la mia camicia grigia preferita. Mio papà diceva che si intonava ai miei occhi. Mi passai sulle labbra un lucida labbra alla fragola e infilai il tubetto in tasca per dopo, nel caso ci fosse stato bisogno di rimetterlo. In auto Susanna continuava a sorridermi nello specchietto retrovisore. Le lanciai uno sguardo del tipo «Piantala, ti prego!» Ma in realtà avrei voluto ricambiare il sorriso. Conrad sembrava distratto. Guardò fuori dal finestrino per tutto il tragitto. «Divertitevi ragazzi!» disse Susanna, facendomi l'occhiolino mentre richiudevo la portiera. Per prima cosa Conrad mi comprò una mela caramellata. Per sé prese soltanto una bibita. Di solito mangiava perlomeno una mela o due o una frittella. Invece quella sera pareva nervoso, cosa che fece sentire me meno nervosa. Mentre camminavamo sul lungomare lasciai la mano libera, non si poteva mai sapere. Lui però non la strinse. Era una di quelle perfette serate estive, nelle quali soffia la brezza e non cade neppure una goccia di pioggia. Il giorno dopo sarebbe piovuto, ma quella sera avremmo avuto fresche brezze e nient'altro. Dissi «sediamoci, così mangio la mela». E così facemmo. Ci sedemmo su una panchina rivolta verso la spiaggia. Morsi la mela con cautela. Temevo che il caramello mi si appiccicassi ai denti e a quel punto come avrebbe potuto baciarmi. Conrad sorseggiò rumorosamente la sua bibita, poi lanciò un'occhiata all'orologio. «Quando hai finito, andiamo al tiro agli anelli». Voleva regalarmi un peluche. Sapevo già quale avrei scelto. L'orso bianco con gli occhiali di metallo e la sciarpa. Era dall'inizio dell'estate che gli avevo messo gli occhi addosso. Già mi immaginavo a sfoggiarlo con Taylor. «Oh, quello me lo ha regalato Conrad Fischer!» Devorai il resto della mela in due morsi. «Ok», dissi pulendomi la bocca con il dorso della mano. «Andiamo». Conrad partì spedito verso il tiro agli anelli e io dovetti camminare come un razzo per stargli dietro. Come sempre non stava parlando molto, perciò dovetti farlo io e ancora più del solito per compensare. Quando torneremo a casa, forse finalmente mamma metterà la tv via cavo. È una vita che Steven, papà e io cerchiamo di convincerla. Lei dice di essere contrari alla tv, ma poi, insomma, per tutto il tempo guarda film. «È così ipocrita», dissi. E la mia voce si affievolì quando vedi che Conrad non mi stava neppure a sentire. Stava guardando la ragazza che lavorava al tiro agli anelli. Dall'aspetto pareva avesse 14 o 15 anni. La prima cosa che notai furono i suoi pantaloncini. Erano gialli canarino ed erano cortissimi. Lo stesso, identico paio di pantaloncini che avevo indossato io due giorni prima e per cui i ragazzi mi avevano preso in giro. Ero stata così contenta di comprare quei pantaloncini con Susanna. Ma poi, quando i ragazzi mi avevano deriso, i pantaloncini stavano molto meglio a lei. Aveva le gambe magre e lentigginose, come pure le braccia. In lei tutto era magro, perfino le labbra. Aveva i capelli lunghi e ondulati. Erano rossi, ma così chiari da essere quasi colorpesca. Erano i capelli più carini che avessi mai visto. Li teneva da un lato, talmente lunghi, che mentre consegnava gli anelli alle persone doveva continuamente spostarli indietro. Conrad era venuto sul lungomare per lei. Mi aveva portato con sé perché non voleva venire da solo e non voleva che Steven e Jeremiah gli dessero del filo da torcere. Tutto qua. Era quello il motivo. Lo vedevo dal modo in cui la guardava, dal modo in cui quasi tratteneva il respiro. «La conosci?» gli chiesi. Parve sorpreso, quasi avesse dimenticato che fossi là. «Chi? Lei? Eh, non direi.» Mi morsi il labbro. «Beh, vorresti.» «Vorrei che.» Conrad era confuso e la cosa mi infastidiva. «Vorresti conoscerla?» gli chiesi con impazienza. «Penso di sì.» Lo afferrai per la manica della camicia e andai dritta verso di lei. La ragazza ci sorrise e io ricambiai, ma soltanto per salvare le apparenze. In realtà stavo fingendo. «Quanti anelli volete?» ci chiese. Aveva l'apparecchio, ma su di lei appariva interessante, quasi fosse gioielleria dentale e non ortodonzia. «Ne prendiamo tre», le dissi. «Belli tuoi pantaloncini.» «Grazie», rispose. Conrad si schiarì la gola. «Sono molto carini. Se non sbaglio due giorni fa, quando io mi sono messa un paio identico a quello, tu mi hai detto che erano troppo corti.» Mi voltai verso la ragazza e dissi «Conrad è così iperprotettivo. Tu ce l'hai un fratello maggiore?» Rise. «No.» E a Conrad disse «Credi che siano troppo corti?» Lui arrossì. Da quando lo conoscevo non lo avevo mai visto arrossire. Ebbi l'impressione che quella potesse essere la prima e ultima volta. Finsì di guardare l'orologio e dissi «Conrad, prima di andare via voglio fare un giro sulla ruota panoramica. Mi raccomando, cerca di vincere un premio per me, va bene?» Conrad annui in fretta e io salutai la ragazza prima di allontanarmi. Andai verso la ruota il più alla svelta possibile perché non mi vedessero piangere. In seguito scoprì che la ragazza si chiamava Angie. Conrad finì per vincere e regalarmi l'orso con gli occhiali di metallo e la sciarpa. Disse che secondo Angie quello era il premio più bello che avevano ed era sicuro che sarebbe piaciuto anche a me. Io gli risposi che avrei preferito la giraffa ma lo ringraziavo comunque. Lo chiamai e io gli risposi che avrei preferito la giraffa ma lo ringraziavo comunque. Lo chiamava